Torniamo di atletica, in particolare di self-atletica. Buongiorno e bentornato a Niccolò Montanari. Buongiorno, grazie. Allora, quali sono le novità? Beh, diciamo che intanto siamo alla fine della nostra stagione, anche se parlare di stagioni nell'atletica leggera è sempre complesso, perché oltre alla pista abbiamo anche le gare indoor e le gare su strada e i cross, quindi le corse campestri, però convenzionalmente definiamo la fine del ciclo agonistico a settembre, abbiamo disputato quindi i campionati di società nell'ultima parte di stagione, mentre nella prima parte, prima dello stacco di agosto, abbiamo disputato i campionati italiani individuali, o meglio i nostri atleti li avevano disputati, abbiamo ottenuto ottimi risultati, perché sia a livello societario abbiamo gareggiato ancora una volta nella finale argento con le donne e nella finale B con gli uomini, e a livello individuale abbiamo ottenuto recentemente un titolo italiano assoluto, che è quello di Sara Vitiello nella 35 km di marcia, ma anche molti altri risultati, medaglie di italiani di categoria, cito Vivian Osage, medaglia di argento nel getto del peso nella categoria under 23 e Giulia Landini, medaglia di bronzo sempre nel getto del peso, in questo caso negli under 16. Come novità siamo in partenza quindi per la prossima stagione con la preparazione invernale, quindi con i nostri centri di atletica nelle nostre tre sedi nella provincia di Reggio, quindi Reggio Emilia al Camparada, Montecchio al Silvio Darzo e Correggio al Dorando Pietri, quindi corsi per tutti i bambini e ragazzi dai 5-6 anni, per poi passare all'attività assoluta e all'attività anche per quelli, tra virgolette, più anziani, quindi i master che ci danno comunque molte soddisfazioni, anche in questo caso faccio una citazione a Gabriele Di Giovanni che quest'anno è arrivato al suo tredicesimo titolo italiano master nel lancio del disco, quindi è una categoria che oltre ad avere un grande valore a livello sociale ci porta anche dei risultati. Poi abbiamo come l'anno scorso, ne avevamo già avuto modo di parlare, il progetto della camminata del benessere che è un progetto che portiamo sempre in ottica di inclusività, quindi sport per tutti e anche ecosostenibilità, quindi per ridurre le emissioni, una possibilità per i genitori che portano i ragazzi, i bambini al campo di fermarsi e fare atletica o meglio camminare, quindi attività e ginnastica anche loro, si trovano due volte alla settimana con i nostri allenatori, quindi insomma un progetto per l'atletica e l'attività sportiva per tutti e per tutte, cito anche il progetto, anche in questo caso non è una novità, in collaborazione con All Inclusive Sport per gli atleti diversamente abili, insomma ci vedono, sono progetti che ci vedono impegnati anche sull'ambito dell'inclusività, sull'ambito educativo e sport per tutti. Quindi siete soddisfatti di com'è andata la stagione, anche dei vari progetti e poi proseguono, giustamente lei citava le diverse discipline, perché spesso noi parliamo di atletica in modo generico, ma poi ci sono tante discipline ed è bello anche ricordarle, no? Esatto, infatti sì, molti guardano le finali delle Olimpiadi dei 100 metri e pensano che l'atletica si fermi lì, in realtà c'è molto altro, quindi sempre parlando della pista ci sono tutti i lanci, quindi ho parlato di tre lanciatori diversi, i salti, quindi salti in lungo e salti in alto, ma anche fuori dalla pista, quindi parlavo prima di Sara Bitiello che è un'atleta che è cresciuta nei nostri vivai nella self-atletica e dall'anno scorso fa parte del corpo sportivo delle Fiamme Oro di Padova e lei è una marciatrice, quindi fa la 35 km di marcia, l'anno scorso ha avuto la possibilità e il grande onore di partecipare ai campionati del mondo individuali di Budapest 2023 e quest'anno ha ottenuto il secondo titolo italiano assoluto sulla distanza di 35 km, poi abbiamo sempre parlando di strada un altro grande esempio è Barbara Bressi che quest'anno ha partecipato alla maratona di Berlino che è una delle grandi maratone a livello mondiale e ha ottenuto la terza prestazione stagionale sulla distanza che è un risultato incredibile che forse appunto molti non considerano quanto la pista ma in realtà è veramente eccezionale dietro soltanto alle due atlete che hanno rivestito la maglia azzurra alle Olimpiadi quindi Giovanna Eppi quindi degli ottimi risultati in particolare per lei com'è andata la stagione? io sono atleta diciamo a modesto livello, mi sono sempre impegnato su diversi ambiti nell'atletica siamo molto poliedrici io faccio gli 800 metri, i 1500 metri ma mi fermo a livello regionale dal 2021 collaboro poi con la self-atletica come social media manager quindi per la gestione dei social media e anche con la collaborazione con i giornali quindi i rapporti con Francesco Ferrari per queste occasioni per quanto riguarda la fondazione per lo sport esattamente e anche con i quotidiani ecco come va anche questo aspetto del comunicare lo sport in particolare nel vostro caso le varie discipline dell'atletica attraverso anche i nuovi media? beh penso che otteniamo degli ottimi risultati anche in questo ambito chiaramente sono delle novità degli ultimi anni i nostri follower sono in crescita e cerchiamo sempre di portare al maggior pubblico possibile le nostre iniziative un nuovo metodo anche di promozione dei nostri corsi quindi siete sui vari social? come vi si trova? come self-atletica? self-atletica è stato su Instagram, su Facebook abbiamo il sito che non lo gestisco io ma lo gestisce il nostro webmaster Federico Menozzi e poi appunto occasionalmente siamo sui giornali, sui quotidiani direi su Instagram quali sono i post e i reel che hanno più successo? come li fate prima della gara e dopo la gara? ma sì facciamo, abbiamo ogni tanto anche dei fotografi in pista quindi pubblichiamo delle foto nel riscaldamento ma soprattutto poi le foto dei risultati quindi quello è quello che generalmente va di più anche perché gli atleti li condividono e quindi otteniamo anche molti likes senza, diceva appunto della stagione indoor che quindi insomma prende avvio quali sono gli obiettivi, quali anche i momenti, gli impegni che avrete? esatto, allora la stagione indoor comincerà tendenzialmente col nuovo anno quindi gennaio e anche in questo caso ci sono i campionati italiani a livello individuale sia a livello assoluto che a livello di categoria quindi divisi per annate quindi anche in questo caso speriamo che i nostri atleti ottengano tanti ottimi pezzamenti come hanno sempre fatto quindi adesso sostanzialmente si continua l'allenamento anche in palestra o fuori? esatto, adesso funziona questa parte dell'anno tra le due stagioni, no? l'outdoor e l'indoor? sì, noi la chiamiamo preparazione invernale chiaramente varia molto a seconda della specialità chi fa mezzo fondo e fondo a delle gare anche in questa parte della stagione con le corse campesti, le corse su strada chi invece fa altre specialità dell'atletica che si concentrano più nell'indoor e sulla pista in questo periodo fa molta palestra e ci alleniamo per quello che riguarda Reggio ancora al Camparada per il momento nell'attesa che ci sia un nuovo impianto ecco, chi vuole iniziare a avvicinarsi alla vostra società iniziare a fare da associato o proseguire a fare da associato l'attività sportiva come deve fare? beh, appunto, noi siamo reperibili sul nostro sito ci sono tutte le informazioni come sui nostri social le iscrizioni sono online quindi ci si può iscrivere e poi presentarsi in campo per i ragazzi che vogliono fare una prova è chiaramente possibile farlo a livello gratuito quindi ci si può presentare in campo col modulo che si può trovare sul sito e fare appunto degli allenamenti per vedere se è quello che piace e poi eventualmente iscriversi successivamente ci sono delle discipline che negli ultimi anni hanno magari raccolto più consenso anche per, diciamo, grazie ai successi internazionali o nazionali dei nostri atleti? beh, noi siamo molto fortunati perché abbiamo beneficiato degli ottimi risultati che abbiamo ottenuto recentemente alle Olimpiadi di Tokyo e anche quelle di Parigi veniamo poi anche dal periodo del Covid che è un altro fattore che ci ha portato un aumento nei nostri tesserati infatti il movimento dell'atletica a reggio tra le due società che ci sono è veramente molto ampio chiaramente con i bambini si tende giustamente a far praticare tutte le specialità per cercare anche quello in cui si è più bravi ma anche per rimanere poliedrici poi con i 16 anni si inizia la specializzazione quindi nella categoria cadetti per entrare poi nel settore assoluto in cui chiaramente l'atleta si concentra su quello che è la sua specialità più nello specifico le specialità più conosciute, lo diceva anche lei sono insomma i 100 metri, il salto in alto quelli che i nostri campioni ci fanno vedere in televisione però in campo riusciamo a far provare un po' di tutto anche perché ognuno ha forse una propria predisposizione più adatto o più capace o può diventare più capace in una disciplina piuttosto che un'altra quello certamente nell'atletica c'è veramente spazio per tutti perché tra lanci, salti, corse ce n'è veramente per tutte le persone capita di passare anche da una disciplina all'altra forse più sulla distanza capita soprattutto tra i giovani gli atleti giovani non è raro che insomma facciano sia salti che lanci che corse poi chiaramente crescendo ci si specializza sempre di più grazie per averci dato questo quadro della vostra attività